cercai di condividere questa nuova prospettiva con un amico che in un momento particolare della sua vita non se la sentiva di scegliere avrebbe voluto cambiare lavoro fare finalmente qualcosa di creativo ma non ne aveva il coraggio diceva sai ho una famiglia dei figli comincio ad avere una certa età sono tutte scuse dissi gli risposi non sarebbe molto meglio considerare la famiglia come espressione della tua libertà piuttosto che come un fattore limitante l'unico tuo dovere è essere felice come puoi educare i tuoi figli alla felicità se non la provi direttamente non trovi che sia più coraggioso da dare loro un esempio coerente di felicità a volte è la vita a scegliere per noi mi chiesi se fosse davvero la vita a scegliere per lui oppure le sue paure anche quando sembra che gli altri ci condizionino in ultima analisi siamo sempre noi a decidere ci sono appunto persone che scelgono distinto quello che loro chiamano istinto è quello di pancia anche se io ti vorrei dire che molte volte il fatto di riuscire a decidere di pancia è un punto di arrivo e non un punto di partenza ti voglio dire questo da dalla mia esperienza di medico perché purtroppo molte volte quando le persone credono di scegliere di istinto di pancia non scelgono per l'istinto la pancia ma scelgono semplicemente sulla base di condizionamenti condizionamenti che hanno ricevuto un passato dalla famiglia dalla scuola dalla società